Tranquilli, non può ricevere Teo! Non può ricevere Teo! Bravo, bravo Nietzsche, bravo! Segui dalla palla a te! Difesa, giratemi! Teo, vai dentro! Ha tre falli, vai dentro! Non aveva fatto bene! Doveva andare dentro e prendere il fallo! Bravo Teo, bravo Teo! Così, così! La vuole! La vuole! Bravo! Così Pace! Vai, vai, vai! Non puoi spingere col brazzo! Non puoi mettere la mano avanti! Non puoi mettere la mano avanti! Giusto, però ogni tanto se la fischiamo dopo smette di farlo! Cioè, è fortissimo, è bravissimo! Però... Cioè, è un vizio che deve perdere! Non devi attaccare lì Teo! Dai, ancora, ancora! Oh!